E' arrivato a bordo di un carretto siciliano quest'anno la Befana all'ospedale Cannizzaro di Catania. Per il nono anno consecutivo si è ripetuto il tanto atteso appuntamento per i fili dei dipendenti organizzato dal CRAL, circolo ricreativo aziendale e lavoratori. La vecchina dalle scarpe tutte rotte, Donatella Consoli, una dipendente amministrativa che non ha abbandonato la sua scopa, ne aveva due con sé, trainata da questo cavallo, Giorgio, bardato a festa e agghindato con pennacchi e decorazioni tipici della tradizione siciliana, ha fatto anche visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria, per tutti dolci e caramelle, niente carbone, neppure per il presidente della regione Crocetta che non ha ancora nominato il nuovo direttore generale del nosocomio che è commissariato da quasi due anni. Quest'anno in particolare, siccome andavo a Palermo, mi hanno scortata con un carretto siciliano, perché meglio di un carretto siciliano per dire che siamo in Sicilia non c'è. Ho avuto un colloquio, una trattativa lunga con Crocetta ed è stato veramente positivo, perché mi ha comunicato, non ce lo diciamo a nessuno, che presto ci sarà un direttore in questa azienda. Io sono felice di tutto questo. Ad attendere la Befana nel centro congressi della struttura sanitaria, numerosi bambini, per loro giochi a premi, balli e musica per concludere in allegria il periodo natalizio, un evento ormai nel calendario delle iniziative annuali del Cannizzaro. Questo è un appuntamento che non possiamo mancare. Capisco che sarà inusuale per un ospedale fare una festa alla Befana, ma è comprensivo. E avendo il direttore generale, il commissario straordinario, il dottore Cantaro, che ci dà l'autorizzazione per fare questa cosa, diciamo che il numero dei bambini ci soddisfa, perché oggi ci sono 130 bambini già prenotati. Grazie poi agli animatori che abbiamo preso, diciamo che la festa diventa una gioia per tutti, sia per gli adulti che per i ragazzi. Grazie a tutti.